Motivazioni diverse ma un unico desiderio, incontrare Papa Francesco e insieme a lui pregare per il prossimo sinodo. Sono 65 ragazzi della Diocesi di Rimini partiti domenica mattina dal seminario per il pellegrinaggio che li porterà a piedi in sei tappi a Laverna, da dove poi in Pullman sabato raggiungeranno Roma per la veglia di preghiera e la messa insieme al pontefice. Sono quasi 30.000 i giovani che in queste ore sono in cammino, partiti da 200 diverse diocesi d'Italia e che stanno convergendo nella capitale. A Rimini è stato il Vescovo Lambiasi a dare il mandato e a benedire i passi dei giovani. Tutto nasce dall'invito di Papa Francesco che ha chiesto ai giovani di incontrarsi a Roma l'11 e il 12 agosto per pregare sul sinodo. Solo che una sua invenzione è stata di non arrivare il weekend a Roma a fare una mini GMG, ma arrivare a Roma percorrendo dei pellegrinaggi, percorrendo terre dove sono passati dei santi, dei luoghi legati alle diocesi e ognuno poteva scegliere un po' il suo cammino. Allora noi da Rimini abbiamo pensato di fare un tratto di strada da Rimini a Laverna a piedi, diviso in sei tappe. Ci tengo a sottolineare che ci sono sette ragazzi special, così sono stati soprannominati i Fantastici Sette, che sono ragazzi che hanno delle disabilità, uno in carrozzina, altri disabilità che comunque usano carrozzine, perciò per noi è un pellegrinaggio nel pellegrinaggio, camminare con loro, essere al loro servizio, aiutarli. E c'è da dire che loro colorano il pellegrinaggio in una maniera tutta particolare, rende proprio tutto molto più vivo, più vero, più legati a questa esperienza che poi ci porta a incontrare Gesù.